Giuseppe Garibaldi, uno dei concorrenti più distintivi del Grande Fratello 2024, ha condiviso apertamente la sua delusione per non essere riuscito ad avanzare alla fase finale del gioco durante la semifinale di marzo. L'eliminazione è sopraggiunta proprio al momento cruciale della finale, determinata dal televoto. Prima di continuare con questo video, ci teniamo a chiedere il vostro supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille. In un video condiviso sui social subito dopo aver abbandonato la casa, Garibaldi ha esternato la sua profonda gratitudine verso coloro che lo hanno sostenuto, ammettendo al contempo di aver nutrito la speranza di portare a termine il programma nonostante la delusione di non essere riuscito a qualificarsi tra i primi cinque finalisti. Garibaldi ha sottolineato che per lui raggiungere quel punto rappresenta comunque una vittoria. Anche il conduttore Alfonso Signorini ha espresso il suo rammarico per l'uscita di Garibaldi dal gioco, dichiarando di aver sperato che potesse raggiungere la finale. Signorini ha elogiato Garibaldi come una persona unica e ha espresso il suo pieno appoggio, affermando che lo avrebbe scelto di nuovo come concorrente senza alcuna esitazione. Indipendentemente dalle circostanze, Signorini ha cercato di confortare Garibaldi suggerendo che avrebbero potuto condividere un aperitivo con Rebecca, offrendo così un momento di relax dopo la delusione della sconfitta. Fateci sapere cosa ne pensate con un commento e inoltre vi ricordiamo un piccolo supporto, semplicemente cliccate sul tasto iscriviti e lascia un mi piace al video. Grazie mille.